come potete vedere dal sottaggio che appare a mio fianco abbiamo chiesto ai nostri rispondenti se in questo momento investirebbero nel metaverso e più del 60 per cento detto no non investirei nel metaverso nonostante si senta sempre più spesso parlare di questa parola di metaverso il nostro panel di rispondenti al momento non vi investirebbe proprio denaro le motivazioni possono essere molteplici ma presumibilmente possiamo riassumerle in due motivazioni punto uno per la scarsa motiva conoscenza di cosa effettivamente sia il metaverso e delle tecnologie che lo abilitano e una scarsa fiducia nella durabilità e stabilità di questo trend ma dunque andiamo per step cosa sappiamo del metaverso il metaverso è un termine nato all'inizio degli anni 90 tra l'unione di due parole meta e universo ma è salito però alla ribalta quando facebook nell'ottobre dello scorso anno ha cambiato il nome in meta il metaverso dunque è un universo digitale un insieme di spazi virtuali così lo ha definito mark zakenberg un'estensione virtuale del mondo reale in cui le persone si incontrano creano avatar realistici si incontrano possono creare oggetti acquistare proprietà digitali andare a concerti andare a conferenze fare viaggi e chissà quali altre cose effettivamente con il metaverso riusciremo a fare ma seconda domanda sarà un trend del momento o potrebbe inevitabilmente influenzare la nostra vita privata e lavorativa ciò che sappiamo ora è che tante aziende ci stanno investendo tante aziende oltre meta e quando parlo di grandi aziende intendo aziende del calibro di amazon di microsoft grande aziende di gaming e un dato interessante quello che ci viene offerto dagli analisti di blueberg il quale affermano che il metaverso a partire dal 2024 potrebbe generare un business di 800 miliardi di dollari probabilmente noi non siamo pronti ancora immaginare quanto il metaverso impatterà nelle nostre vite quanto cambierà la nostra vita privata e lavorativa cosa significherà per noi andare a fare acquisti online sul metaverso saremo più disposti a andare al cinema facendo la fila per andare a comprare il biglietto nella zona centrale preferibilmente quarta e quinta fila al centro per riuscire a vedere in modo ottimale i nostri film e invece per quanto riguarda le riunioni aziendali siamo passati da riunioni 100% in presenza a riunioni 100% online in un batter d'occhio durante la pandemia probabilmente solo il tempo ci darà le risposte che stiamo cercando quanto effettivamente il metaverso cambierà la nostra vita Grazie a tutti